Ciao a tutti ragazzi, da Zebra, per favore, per favore, lo chiedo alla magistratura, lo chiedo al Milan, non date sanzione come a noi della Juventus, non glielo date, si stanno auto togliendo i punti, loro stanno facendo beneficenza, il Milan fa beneficenza ragazzi, sta facendo beneficenza, adesso aiuterà la Lazio, la Roma e lei tornerà indietro, forse tornerà con noi della Juventus, vuole fare compagnia alla Juventus, dai ragazzi, Milanisti ditelo, volete fare compagnia a noi della Juventus? Dai, se continuate così, ci troveremo lì, saremo lì insieme, comunque ragazzi, che figura di merda, 4-0, allora, complimenti alla Lazio, complimenti alla Lazio, ha fatto una bella partita, ha fatto la partita che doveva fare, si è comportata da squadra, quello che volete ragazzi, però come ho detto con l'Inter, e questa volta sono sempre ancora più sicuro, molti demeriti del Milan, cioè il Milan ha agevolato sia l'Inter che la Lazio, gli ha dato proprio una mano, perché vincere 4-0, complimenti alla Lazio, ma il Milan è indecifrabile, cioè non c'è più sul terreno di gioco, non ci sono con la testa, ragazzi, a parte fisicamente sono scoppiati, non hanno più gioco, non hanno stimolo, ragazzi, questi non hanno stimolo, il Milan non ha stimoli, Pioli deve, secondo me sarà difficile trovare il bando della Matassa, perché qui stanno andando in caduta libera, c'è figure di merda una dietro l'altra il Milan, mamma mia, ragazzi, mamma mia, il Napoli va via, salutate il Napoli, ha vinto, per me ha vinto, è l'unica squadra costante, e se questo è l'andamento delle milanesi, ma soprattutto, ora parliamo del Milan, è preoccupante, ripeto, non so se loro per giustizia vogliono venire con noi, naturalmente scherzo, ragazzi, però è preoccupante, questo calo, questa difficoltà, ma soprattutto a creare gioco, a mantenere il campo, le misure del campo, cioè siete troppo sfilacciati, la Lazio entrava da dove voleva, poteva far male ovunque, la difesa imbambola, non sa dove andare a prendere i giocatori, il centrocampo che non filtra, è totalmente un disastro, il Milan è un disastro, questo è il mio pensiero, secondo me Pioli veramente deve cominciare a prendere il giocatore e dire chi vuole, a dire ma chi vuole scendere in campo, questo è un problema serio, il Napoli scappa, le milanesi arrancano, la Juve non c'è, un campionato ormai pazzo, ma quello che c'è da dire è che chi merita veramente questo campionato, senza scuse, senza scuse e senza ma, nessuno può dire che è falsato, lo merita solo il Napoli, solo il Napoli, squadra, o quest'anno, fino adesso, l'unica squadra costante, l'unica squadra che veramente può ambire a quello scudetto e che merita quello scudetto. Milanista, mi dispiace per te, però questa squadra è veramente da buttare, buttare, gennaio generalmente è quella in cui si fa la riparazione e per voi nel Milan forse serve veramente, ma con questi chiari di luna forse sarà molto difficile, non lo so, Zagnolo? Non si sa, commentate, iscrivetevi al canale e che vi devo dire raga, quest'anno la Serie A credo che sia finita, ciao!